Buongiorno a tutti, io sono Softherba e oggi andremo a conoscere il nuovo server Ocus Metin 2, oltre che conoscere questo server veramente fatto molto bene, andremo anche a vedere come si struttura un Sura M da 0 fino al livello 105 full pvm, faremo più di un video, farò più di un video, scusate, e andremo anche a conoscere come strutturare lo status, mettere i bonus sui vario equip, che equip usare, ma soprattutto anche lo status e tanto altro, andremo veramente a vedere tutto. Iniziamo con creare il personaggio, io sceglierò il regno rosso, appena parte, ok, su Rem lo chiamerò YouTube, ok, perfetto, il nome non esisteva già e andiamo a iniziare. Questo server l'ho conosciuto poco tempo fa e mi ha subito attirato, veramente staff molto gentile, simpatico e aiuta spesso nel momento del bisogno, anzi aiuta sempre, se hai bisogno lo puoi trovare anche su Discord se non è online sul server e ci sono tantissimi helper, sempre disponibili veramente, che potremmo trovare qui, adesso c'è solo H e il santo, ma veramente ci sono tanti helper sempre disponibili ad aiutare. Iniziamo con cosa troviamo a inizio server. A inizio server troviamo la spada P9, la corazza di Queen P9, comunque arma e armatura, elmo, orecchini, collana, scarpe, bracciale e lo battaglia, tutti da livello iniziale, tutto P9. 800 gira bonus, 200 aggiungi bonus, scusate, la pozza infinita rossa e blu, tutte e due grandi. Il baule apprendista 1, che è stato implementato da poco per chi inizia a giocare su questo server. Le scarpe del vento che andiamo subito a inserire, il mantello, il libro armi a cavallo, per richiamare il cavallo medio, un pet, che è il mini melee, con 1500 HP e forte contro mostri 10, e il manni, che è il mammut, max HP 2000 e 15 mostri. Le andiamo ad attivare immediatamente. A inizio server io consiglio sempre fino al livello 30 di almeno bonusare le prime cose, come ad esempio spada, tanto abbiamo anche già i gira bonus, 800 pezzi disponibili, allora facciamo uscire 12 forza e 12 int, che serviranno la 12 int per aumentare il buff di lama, e il 12 forza per aumentare l'attacco che faremo ai mob e ai metin. È già venuto fuori. Poi andremo a bonusare lo scudo, ovviamente, cosa molto utile lo scudo. Io adesso metto qui solo la 12 int e difesa svenimento, che è la cosa più importante, la difesa svenimento. Perché tanto è uno scudo che andremo a cambiare molto presto. Sulla armatura gli mettiamo i quattro bonus, e li facciamo, e facciamo, facciamo uscire subito 3000 HP e perché no, 50 valori d'attacco per aumentare subito i danni ai metti nei mob. Lo scudo è già uscito, anche l'armatura è già uscita. L'elmo, non c'è niente di utile per il momento da mettere, per un elmo che cambieremo a livello 21. Sulla collana e sulle scarpe aggiungiamo i quattro bonus, appena decide di entrare, ma anche su il bracciale. Aggiungiamo i quattro bonus. Ok. E andiamo a trovare in tutte e tre dei bonus che scegliamo adesso. Il bracciale io consiglio i 3000 HP e, a mio parere, adesso come adesso, soltanto gli HP servono. Però uno, se vuole, può mettere anche l'assorbimento di HP, ma veramente sarebbe inutile andare a sprecare molti più gira per trovarli tutti e due insieme. 3000 HP bastano. Le scarpe, ecco, le scarpe io consiglio 3000 HP e 20 S bonus, perché così si livella molto prima. Le scarpe e il bracciale sono già usciti e sulla collana facciamo sempre S bonus e 3000 HP. Gli orecchini le possiamo lasciare così perché anche questi li andremo a cambiare molto presto e possiamo inserire tutto il nostro equip. Chiudiamo la chat. Bene. Dal baule apprendista cosa troviamo? Dal baule apprendista quando lo apriremo troveremo l'altro baule che apriremo da livello 50, i due elisir del sole e della luna grandi e medio, elisir del sole, pita, medio, elisir della luna che sono gli MP e grande. Il ciupa ciupa, lecca lecca della magia, che da 3000 HP, 30 mostri e 50 S bonus. Questa ha la durata di due giorni. A mio parere io lo inizierei a mettere dal livello 30, però per chi lo vuole utilizzare subito può farlo. Comunque sarà craftabile anche sul server, dopo più avanti lo andremo a vedere. E iniziamo a spaccare qualche metin e uccidere qualche mob. Benissimo. Effettuato il livello 5 ci verrà fuori il papiro con la scelta della dottrina. Noi andremo a scegliere su run magiche, come abbiamo detto in inizio video. Benissimo. Intanto che cominciamo ad attaccare e mobbare qui il metin e i mostri, andiamo a mettere lo status. Lo status, allora, ci sono molte guide su internet che troverete dove dicono di mettere 3 punti 2 vita e così via. Io, a mio parere, da molti anni a questa parte sui server privati, soprattutto server dove si espa abbastanza veloce, ho sempre inserito tutto su intelligenza. Perché tanto gli HP, cioè la vita, come abbiamo potuto vedere fino a poco fa, possiamo inserire 3000 HP su molti item, come scarpe, collana, bracciale e armatura. E allora, sarebbe inutile, sinceramente, adesso come adesso, alzare la vita. Io consiglio tutto su intelligenza, per aumentare prima il buff della lama e fare molto più danno ai metin e ai mostri. Riandiamo a mettere tutti gli altri punti su intelligenza e poi andiamo ad aumentare i punti abilità. Siamo arrivati al livello 11 e ci abbiamo 10 punti abilità. I 10 punti abilità, a mio parere, io sono uno che attacca molto dal ciucco, dal cavallo o dalla cavalcatura che danno in dotazione o che ti crei mano a mano nel server. Infatti, a mio parere, la prima skill da alzare con tutti i punti che guadagniamo è lama, dove poi la andremo a selezionare in uno degli slot a nostro piacimento, io danni l'uso su F2 e possiamo notare, adesso ovviamente non prendo il metin, che il metin verrà spaccato molto prima. Poi, grazie all'aiuto dei 12 int della spada, dei 12 int dello scudo, aumenta di molto il valore d'attacco. Se noi infatti togli lo scudo che toglie 12 int, come potete vedere il valore d'attacco è diminuito. Da 37.0, se andiamo invece a rimettere lo scudo che da 12 int, 44.9. L'int è la cosa molto, cioè, più utile in assoluto in un surm per buffarsi. Infatti, più avanti andremo a vedere come fare l'equip pvm e l'equip full buff per il surm. Perché non esiste solo per la sciamana e farsi un equip da pvm e un equip per buffare, ma bensì anche per un surm. Siamo già a livello 13, siamo quasi alla fine di questo primo video. Il mio consiglio è di arrivare a livello 15 nella prima città, dopo, sinceramente, si può già passare al secondo villaggio, dove passerà cliccare sull'anellino, questo qua, perché il primo, questo qui, blocca l'esperienza. L'anello blocca esperienza attivo, da ora non riceverai più esperienza. Lo riattiviamo perché vogliamo espare, giustamente, vogliamo salire di livello. E dal livello 15 potremo usare questo anello qua, dove potremo selezionare villaggio secondario e scegliere uno dei due villaggi, tra rosso, il nostro, o quello blu, Gino. Adesso aspettiamo di arrivare al livello 15, chiudo il video e ci vedremo alla prossima puntata. No, al prossimo video dove vedremo cosa potremo fare dal secondo villaggio. Ecco. i miniboss, anche il primo villo, droppano già incanto oggetto e rinforzo oggetto. Cosa cambia da l'incantesimo verde e forza verde? Questi due che ci danno in dotazione all'inizio e che potremo comprare dalla bottegaia, e nel prossimo video vedremo anche cosa danno gli NPC e sono gli aggiungi bonus e i cambiabonus degli oggetti fino al livello 40. Quando superano il livello 40 dovremo usare il rinforzo oggetto e l'incanto oggetto. Noi siamo arrivati al livello 15 e per oggi, per adesso, con questo video abbiamo visto come strutturare inizialmente un surem e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, lasciate un like, ciao ragazzi.